Apriamo la pagina dedicata al coronavirus in Puglia. Continuano le somministrazioni di prime dosi di vaccino anti-covid nella provincia di Bari. La ASL comunica che negli ultimi sette giorni sono state più di duemila. Ascoltiamo la scheda con i dati dell'ultimo bollettino epidemiologico regionale pugliese. Sono 367 i positivi al coronavirus registrati nel bollettino epidemiologico pugliese di oggi. Tre i decessi. Il primo dicembre dello scorso anno erano stati 1.659 i positivi e 34 i decessi. Oggi nel dettaglio ci sono 105 casi in provincia di Bari, 98 in provincia di Foggia, 58 nel Tarantino, 54 in provincia di Brindisi, 40 nell'Eccese, 13 nell'Abat. Per un caso è stata ridefinita la provincia. Secondo quanto si legge nel bollettino, sono 134 le persone ricoverate in area non critica, 21 invece in terapia intensiva, 4.118 le persone attualmente positive in regione. Intanto l'ASL di Bari rassicura che la situazione nel collegio universitario campus è sotto controllo e che non c'è un focolaio. La comunicazione giunge dopo che due studenti della struttura in via Amendola sono risultati positivi al covid. Invece continuano le somministrazioni di prime dosi di vaccino anti-covid nell'ASL di Bari. Negli ultimi sette giorni sono state più di 2.000. Il calcolo complessivo delle terze dosi è salito a oltre 108.000 con il contributo offerto dai medici di Medicina Generale che negli ultimi giorni hanno somministrato più di 4.700 terze dosi. Anche la campagna di protezione degli operatori scolastici va avanti. Nei prossimi 15 giorni, come da programma, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Bari conta di portare a termine la copertura con dose booster dei 311 istituti scolastici pubblici del barese.